La provincia di Pesaro Urbino piange uno dei suoi artisti più affermati a livello internazionale. La capitale della cultura perde uno dei suoi cardini già al lavoro creativo per il 2024. E' morto questa mattina all'età di 90 anni Oscar Piattella, artista della luce e della materia, che dagli anni 50 partì da Pesaro in un percorso artistico autonomo che ha fatto il giro del mondo. Piattella è venuta a mancare all'ospedale di Urbino, dove era ricoverato dopo un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ha trascorso oltre mezzo secolo a Pesaro, prima di ritirarsi a Cantiano, con l'Appennino che divenne una continua fonte di ispirazione per il suo tratto artistico. Nove mesi fa Pesaro celebrò il suo novantesimo compleanno, ma fu Piattella a fare il regalo al Comune donando il Politico per Pesaro, un'opera che tuttora troneggia nella sala del Consiglio Comunale, in un omaggio di Piattella alla Pala del Bellini, capolavoro dei musei civici. In una nota, oggi, sindaco e vice sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e Daniele Vimini, hanno commemorato l'opera di Piattella, la cui mostra di sgregazione unità fu una delle prime esposizioni a Pesaro dopo il Covid-19. Piattella sarebbe stato un grande interprete di Pesaro Capitale della Cultura, evento per la quale aveva già ipotizzato di dedicare una mostra per l'occasione.